Se la bicicletta è sulle piccole tratte in centro città un veicolo preferibile all'automobile per facilità d'uso e velocità, il sito skyscanner.it ha stilato un elenco dettagliato delle città da percorrere in vacanza sulle due ruote. Presi in considerazione diversi parametri, dalla quantità di bici già in circolazione ai servizi per gli appassionati e tra le mete più bike-friendly d'Europa, dopo la classica Amsterdam, Barcellona, Bordeaux, Copenhagen, Berlino e Dublino. Ma a sorpresa, nella classifica delle capitali, spunta Ferrara, che oltre ad essere patrimonio dell'umanità Unesco, può vantare il maggior numero di biciclette per abitante di tutto il Mediterraneo. Con una popolazione di circa 130.000 abitanti, si contano infatti 100.000 biciclette. Ed in chiusura, si meraviglia skyscanner, senza neanche una pista ciclabile, la convivenza tra pedoni, macchine e biciclette è davvero incredibile. Un ottimo primato per una piccola città della provincia italiana, che con le sue biciclette sorpassa la servitissima Stoccolma, in ultima posizione.